Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della tragico incidente di ieri a Foiano dove ha perso la vita un 24enne. Aveva da poco compiuto 24 anni e a breve si sarebbe dovuto laureare. Si chiamava Jacopo Sciabolini, il giovane studente di scienze infermieristiche morto in un incidente stradale a Foiano della Chiana lungo la strada provinciale 327 lunedì pomeriggio. Uno scontro frontale tra auto, un'utilitaria sulla quale viaggiava il giovane e un SUV. Un violentissimo impatto, la Fiat Panda è sbalzata fuori dalla carreggiata così come l'auto con a bordo due donne, una 51enne e la madre di 75 anni, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, non sono in pericolo di vita. I soccorritori hanno tentato anche di ranimare il ragazzo sino all'ultimo ma alla fine non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'impatto deve essere ancora chiarita, spetterà farlo alla Polizia Municipale. Sull'accaduto, come da prazzi, è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale titolare la PM Francesca Eva. A seguito dell'accaduto, anche il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, Giovanni Grasso, ha voluto esprimere, a nome di tutti gli iscritti, la vicinanza ai familiari della vittima e il cordoglio per la scomparsa di un futuro infermiere. L'azienda Toscana Sud-Est, assieme al Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Infermieristica, ma anche all'Università, tutte e agli studenti, in silenzio questa mattina, con grande commozione, si sono stretti attorno alla famiglia, partecipando al grande dolore per l'improvvisa scomparsa di Jacopo. Saranno promosse anche iniziative possibili per ricordare il giovane. E adesso parliamo di un altro incidente mortale sulle strade della provincia di Arezzo, quello dello scorso ottobre, lungo la regionale 71, nel quale perse la vita Federica Canneti. Il ricordo della giovane, domenica 19 novembre, torna alla Camminata delle Farfalle, partenza alle 9.30 in piazzale Garibaldi per finire alla Tennis Club Castiglionese, dove sarà possibile ascoltare la testimonianza di Maria Pia Cozzolino, da poco tornata dall'Etiopia, dove ha lavorato con i medici di Quaman, grazie ad una borsa di studio in memoria dell'amica Federica. E ancora cronaca, un uomo di 50 anni è stato ferito con un coltello in pieno centro ad Arezzo, in zona Bastioni, da una donna di 80 anni che stava offendendo i passanti. Tra questi, appunto, anche il cinquantenne, che alla vista del coltello avrebbe tentato di evitare il peggio. Si sarebbe però ferito nel tentativo di disarmarla, rimediando un taglio profondo al braccio. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Arezzo. Il nucleo anti-sofisticazioni dei carabinieri di Firenze, invece, ha portato avanti i controlli nelle menze scolastiche del territorio. Nella Retino, i carabinieri del NAS sono intervenuti in due menze scolastiche gestite attraverso dei catering che si trovano nella territorio provinciale al di fuori del comune capoluogo. Locali che hanno mostrato lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco, pavimenti non integri, inadeguatezza dei dispositivi per la lotta agli infestanti e il mancato aggiornamento del manuale del piano di autocontrollo. Così sono stati adottati i provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione. Passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Ancora una richiesta di archiviazione per la morte sul lavoro di Francesco Brenda. L'istanza è stata depositata nei giorni scorsi dal PM Marco Dioni. Adesso il GIP Claudio Alara, che aveva già disposto una proroga delle indagini, dovrà valutare con una nuova udienza. L'incidente fatale risale alla 25 gennaio 2022. Voltiamo pagina, adesso ancora a maltempo e a preoccupare il forte vento. Esteso dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, il codice giallo per vento per i crinali appenninici di Romagna Toscana, Vacino del Reno e Valtiberina, fino alle 8 di domani mattina. Parliamo adesso di telecamere di sicurezza nei negozi. Siglato un accordo tra compi esercenti e Securshop. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Greta Settimelli. Gli eventuali reati sono comunque attenzionati in tempo reale, perché poi il problema dei sistemi di videosorveglianza è che arrivano postumi rispetto a quello che accade. Sì, è questa la novità, perché sono immagini che vanno direttamente, immediatamente, in diretta nelle centrali operative delle Forze dell'Ordine, e quindi sia la parte interna delle immagini dell'azienda che quelle esterne, a seconda appunto del sistema che viene installato, e questo consente un intervento tempestivo, un intervento sicuramente più efficace. Un filo diretto con le centrali operative delle Forze dell'Ordine. Questo sarà possibile per tutti coloro che decideranno di collegare il loro sistema di videosorveglianza, ove già presente, ad un software proposto da Confesercenti in collaborazione con un'azienda privata. Un collegamento alla piattaforma e quindi al sistema. Qui non c'è da rifare impianti di allarme, non c'è da rifare niente, non c'è da aggiungere niente, salvo di due piccoli apparecchi, che uno è il pulsante antirapina, che è naturalmente un pulsante particolare dotato di SIM per una questione di sicurezza, e un altro che si chiama Securebox, che è né più né meno che uno strumento che è necessario in quanto comunque viene richiesto per una questione di privacy e per una questione di criptatura delle immagini. Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che va a sopperire alle mancanze, più volte sottolineate da parte di tutti, del sistema pubblico di videosorveglianza. Non funziona, è un tema. La vera novità è che si va a implementare, nel senso che per quanto possa essere diffuso quello pubblico, questo è sicuramente, essendo legato a singole attività, un'implementazione importante numerica anche, quindi non solo più efficiente, ma anche più presente, più capillare. Una soluzione che potrebbe essere applicata anche al mondo delle aziende orafe, nata in seguito alla firma di un protocollo di sicurezza sottoscritto in prefettura mesi fa. Sono strumenti, sono sistemi che servono proprio per far sì che anche le risorse a disposizione, anche le risorse disponibili, possano essere utilizzate al meglio. Qualcosa che secondo lei può essere applicato, ad esempio, anche nel settore orafo, dove sappiamo benissimo gli assalti degli ultimi mesi? Sì, io l'ho detto anche in diverse circostanze, sono strumenti di difesa passiva che sono determinanti, quindi sono indispensabili, l'ho sempre sottoscritto, l'ho sempre rappresentato anche naturalmente alle aziende orafe e che per loro natura hanno bisogno di ulteriori sistemi di protezione, anche rispetto ad un esercizio commerciale che non operi in quel settore. La protezione civile della misericordia di Bibiena al servizio delle zone alluvionate della Fiorentino. Undici volontari casentinesi divisi in quattro squadre sono stati infatti impegnati a Campi Bisenzio nello svolgimento di una serie di attività orientate a portare un concreto sostegno a popolazioni e territori duramente colpiti dall'emergenza. Vedete l'alluvione che ha interessato parte della Toscana? Ne abbiamo parlato con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, con il quale abbiamo parlato anche dei recenti aumenti. Vediamo. 12,35 euro di contributo di bonifica nella 2022, 13,43 nella 2023. Questi sono due avvisi bonari dello stesso contribuente, un aumento di circa il 10% della cosiddetta tazza dei fossi, un rialzo che ovviamente non è passato inosservato. Ad influire l'aumento dei costi delle materie prime, poi il numero di interventi svolti circa il 27% in più sulla base delle esigenze del territorio. Che vengono fuori in un momento di programmazione, che è quello che facciamo ogni anno con gli antilocali. Quella fase, tante sono state le richieste anche dei comuni per intensificare l'attività del Consorzio, per mettere maggiormente in sicurezza il territorio e quantomeno ridurre il rischio idraulico principalmente nei pressi dei centri urbani. 11 milioni di euro a tanto ammonta all'investimento per gli interventi di manutenzione ordinaria nel comprensorio del Consorzio 2 Alto Valdarno. Si parla di contenimento della vegetazione, poi si parla di rimozione dei sedimenti, sempre di manutenzione ordinaria, si parla della manutenzione delle opere. Dunque più interventi, ma c'è anche chi punta il dito sulla pulizia degli scarti vegetali, dal Consorzio di Bonifica l'appello alle segnalazioni. Quindi se in alcuni corsi d'acqua vedete che ancora è presente della vegetazione, fatecelo presente perché noi richiamiamo le nostre imprese. Sull'attività dei consorsi, soprattutto per la manutenzione dei corsi d'acqua, negli ultimi giorni si è acceso un faro alla luce del passaggio della violenta ondata di maltempo che ha colpito parte della Toscana. Ahimè, se fosse successo anche nel nostro comprensorio, avrebbe provocato forti criticità e forti disagi. La manutenzione ordinaria serve a mitigare il rischio idraulico, ma per risolvere criticità specifiche ci bisogna di nuove opere o di opere straordinarie. E quindi abbiamo chiesto anche attraverso l'Ambi Nazionale, che è l'associazione che raccoglie tutti i consorsi d'Italia, un piano nazionale. Il Comitato Emergenza Lupi ieri ha consegnato al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare le 3.600 firme raccolte per chiedere delle soluzioni ad una problematica che in provincia di Arezzo continua a far parlare. La richiesta alla Ministra Lollobrigita, che fa eco a quelle avanzate da altri comitati italiani, è quella di farsi carico dell'istanza di una parte di popolazione nei confronti di un animale che secondo il Comitato adesso deve essere gestito. Voltiamo pagina adesso. Oggi infatti 14 novembre si celebra la giornata mondiale della diabete, una patologia con numeri in continuo aumento. Vediamo l'approfondimento. In Italia ci sono all'incirca 3 milioni e 900 mila pazienti con il diabete e purtroppo nel mondo si dice che per un paziente con diabete noto ce n'è sempre un altro con diabete non conosciuto. Il 6,6% della popolazione soffre di diabete, 400 mila e casi in più rispetto al 2019. Solamente nella provincia di Arezzo è di oltre 23 mila il numero di persone con diabete noto. rappresenta una delle patologie più persistenti del secolo con numeri in continua crescita. Ogni anno il 14 novembre ricorre la giornata mondiale del diabete per accrescere la consapevolezza e la prevenzione di questa malattia. Il tema scelto è accedere alle cure per il diabete. Perché ci sono molti paesi nel mondo, soprattutto quelli in via di sviluppo, dove l'accesso ai farmaci e all'insulina risulta ancora molto difficoltosa. E se invece nelle nostre aree l'accesso ai farmaci è molto più semplice, purtroppo il problema di un'adeguata terapia, di una precoce presa in carico, di una precoce diagnosi del diabete e delle sue complicanze, è ancora un problema molto grande. Fondamentale è la prevenzione che può essere raggiunta attraverso vari step e cambi di abitudini. È da considerarsi il metodo più efficace per scongiurare il diabete di tipo 2 il più frequente. Dall'associazione Diabetici Eretini anche una brochure informativa. Dove si spiega cos'è il diabete e questo dépliante può essere regalato alla popolazione, chiaramente chiunque persona la voglia e aiuta moltissimo a affrontare questo tipo di patologia. E poi soprattutto, per dare un'idea del prossimo anno, stiamo lavorando molto bene con le farmacie di comunità, in quanto per esempio il farmacista, il medico farmacista, può consigliare anche nei famosi sabati e domeniche che uno si sente abbastanza isolato, può consigliare il paziente diabetico se ha una problematica da affrontare. E poi, come detto sempre, la prevenzione. Ed è anche per questo che molti affrontano il diabete con le famose passeggiate. E poi soprattutto, ricordiamoci una cosa, il diabetico può mangiare tutto, tranne chiaramente i dolci. Può mangiare tutto, solamente basta che sia chiaramente molto parco. Tra l'iniziativa in provincia di Arezzo, anche una dedicata ai cittadini stranieri, con test gratuiti alla presenza di un mediatore linguistico e culturale nelle comunità ad alto rischio di diabete. La popolazione pakistana, abbiamo un incontro il giorno 16 di questa settimana, che sarà tenuto dalla dottoressa Ivana Ragusa, e che è volto alla prevenzione del diabete tipo 2, soprattutto e particolare per le donne. E questo è un aspetto estremamente importante in popolazioni di etnia diversa dalla nostra, che vivono in questo territorio da tantissimo tempo, e che hanno purtroppo un rischio di diabete molto più alto anche del nostro. Ogni anno, invece, il 17 novembre, il mondo si illumina di viola. Si tratta della giornata mondiale della prematurità. Nel 2023, da gennaio a settembre, nelle strutture dell'Asra Toscana Sud-Est, sono nati 227 prematuri su un totale di 2.736, ossia il 9%. Sabato 18 novembre è in programma un convegno aziendale organizzato dal Dipartimento Materno Infattile sulla prematurità a Montevarchi, mentre ad Arezzo il Comitato Aretino Neonatologia è organizzato per il 17 novembre e una festa per tutte le famiglie che hanno avuto i bambini ricoverati presso il reparto. E adesso un altro reparto, anzi, gli ambulatori pediatrici della Valtiberina, che si arricchiscono grazie ad una donazione da parte dei Lions Club di Sansepolcro, che hanno donato delle bilance, un podoscopio, una tavola optometrica per un valore di oltre 1.600 euro, donazione ai servizi pediatrici del territorio e della zona distretto della Valtiberina. Consulenze, screening e formazione per i disturbi specifici dell'apprendimento e i bisogni speciali educativi, invece, al Centro per l'età evolutiva futurabile dell'Istituto Agazzi, che ha rinnovato il proprio impegno al servizio delle scuole per offrire un servizio personalizzato di supporto in caso di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia o disturbi del linguaggio, attivando una serie di progetti rivolti a insegnanti, genitori e alunni in sinergia con gli istituti cittadini. E adesso voltiamo pagina per parlare di un ottimo risultato raggiunto dal Polifonico di Arezzo e dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Il nostro Polifonico, che voglio ricordare sempre, ha 71 anni di età, praticamente è il più antico festival dedicato alla coralità, che porta cori a tutto il mondo, è stato premiato riportando un contributo finalmente degno del lavoro che fa il Polifonico, perché da 9.000 euro siamo passati a 152.000 euro. Da 9.000 euro di contributo statale a più di 150.000. Insomma, un bel salto di qualità per il Polifonico di Arezzo e per la Fondazione Guido d'Arezzo, che ha vinto il primo premio del bando istituito dal Ministero della Cultura per le rassegne corali. La cosa più importante, al di là delle risorse che sono sempre importanti, è che il progetto si è classificato primo. Questo a conferma dell'ottimo lavoro che è stato fatto dal nostro direttore artistico, Luigi Marzola, che era praticamente il primo anno che firmava completamente lui il progetto artistico. Quindi siamo molto felici, un lavoro di squadra, un lavoro che premia questi anni di lavoro durissimo, ma che era confermato dalla presenza copiosa di cori da tutto il mondo alle ultime due edizioni del Polifonico. Oltre ai concorsi corali e di composizione, nazionali ed internazionali, alla Scuola Superiore per Direttori di Coro, al Centro di Studi Guidoniani e alla rivista Polifonie, adesso un'importante novità, la nascita del coro della Fondazione Guido d'Arezzo, una formazione professionale che si esibirà in città domenica 17 dicembre alle 17 nella Basilica di San Domenico. Arezzo è pronta ad ospitare un anno di eventi dedicati alla danza. Campus, concorsi e seminari, un variegato calendario di eventi che conferma Arezzo come punto di riferimento per la danza italiana. Un programma di iniziative sino alla prossima estate con l'obiettivo di sostenere la formazione e la valorizzazione delle giovani promesse del panorama coreutico. Il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi, questi 15 ragazzi che per ora sono stati selezionati, a migliorare, a crescere, a formarsi ad altissimi livelli e aiutarli in quello che poi sarà la loro futura carriera, quindi aiutarli a conoscere nuovi insegnanti, nuovi coreografi ed approfondire la loro passione. Il più ambizioso progetto riguarda la costituzione del cab collettivo Arezzo Ballet, il primo corpo stabile di ballo in rappresentanza della città che vivrà un momento di ritrovo sabato 18 e domenica 19 novembre. Questo è un gran bel sogno che noi ce la metteremo tutta, insomma, sì, a noi farebbe molto piacere creare un gruppo di giovani danzatori che possono portare avanti il nome della città di Arezzo e quindi in tutta Italia e perché no anche in Europa. Il nuovo anno entrerà nel vivo sabato 10 e domenica 11 febbraio con il decimo concorso internazionale Piero della Francesca al Teatro Petrarca. Da quel momento in poi sono in preparazione delle date fino a maggio dove poi i ragazzi verranno portati in questa mini tournée dove si potranno esibire e poi vi sveleremo dove li portiamo. Noi ci occupiamo più dell'aspetto collaterale, Progetti per la Danza fa una manifestazione d'estate che porta ad Arezzo un centinaio circa di ragazzi, ragazzi che vengono sì per ballare, per imparare, per apprendere la danza ma che vengono anche con l'obiettivo di abbinare a questo tipo di apprendimento anche quello più culturale, più turistico se volete e quindi noi ovviamente essendo il nostro core business e il turismo appoggiamo questo tipo di iniziative. Passiamo adesso alla pagina dello sport, 1500 giovani studenti alla scoperta dell'atletica leggera. Kids Athletic Run to School è infatti il nome del nuovo progetto promosso da Alga Athletica Arezzo che dall'autunno alla primavera si sta sviluppando attraverso un intenso calendario di incontri nelle scuole primarie cittadine con l'obiettivo di far vivere attività ludico, motori e bambini alle bambine in cui mettersi alla prova tra velocità, salti e lanci. L'iniziativa ha già trovato il coinvolgimento di numerosi classi degli istituti comprensivi Basari 4 novembre e Margaretone Cesalpino. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.